Ciao a tutti da Marta Ramone, benvenuti in questa prima lezione del valser e dei settori. Oggi vedremo questo valser, trovate già sul canale registrato il brano per interno, e vedremo la partitura, quella semplice, senza appellimenti. Se poi ci sarà interesse, vedremo anche quella con gli appellimenti. Però impareremo prima questa semplice. La parte è questa. E si ripete nuovamente da calma. Non ho inserito, come dicevo, né appellimenti, né terzi, né nulla. Ora, iniziamo con un valser, tre movimenti, quindi inizia già nel primo movimento le varie. Un tara, un ma bari, questo un ma bari, questo un ma bari, questo un ma bari. Ma, in apertura un ma bari, mettendo un metronomo, ascoltate così capite bene la gancio, lo metto a 60, questo un ma bari, ancora questo un ma bari, un ma bari, vedete questo per una decina di minuti, faccio vedere i tasti, un ma bari, ecco qua, è la prima battuta. Vedete, in battere abbiamo una pausa di croma, per chi conosce la musica, in levare abbiamo questo due, quindi un ma bari, bari, chiaro? I tre movimenti. Il metronomo è la 60, per chi vuole inserire anche il metronomo. Fatela per una decina di minuti, fin quando sarete ben sicuri. Bentornati, avete memorizzato questo. un ma bari, bari, aggiungiamo il quarto dito, poi bari, bari, quindi si, bari, bari, questo quindi si, bari, bari, ripetetelo una decina di minuti e poi aggiungete quest'altro, quattro, due cercato, tre, e chiudete col due. Lo fate durare quattro pulsazioni, un, due, tre, chiaro? Quindi ricollegando questo, tam, si, bari, bari, poi la parte successiva che abbiamo memorizzato, quattro, due cercato, tre, e il due in chiusura, quattro pulsazioni, un, due, tre, più uno, chiaro? Ora vi mostro ciò che vi ho appena detto, ecco qua, la prima frase, vi metto una buca per farvi capire i vari pezzi che abbiamo studiato, ecco qua, la frase che abbiamo visto poco fa era questo, sì, bari, bari, quindi questo è in un movimento, nell'altro movimento vanno due note, due note anche in altro movimento, vi mettete prima questo, avete fatto poc'anzi una decina di minuti, dieci minuti quest'altra, quattro, due cerchiato, tre, e il due in chiusura che dura tre più uno, molti potranno dire, ma questi segnetti sopra che sono? Questo tecnicamente è un mordente, io ho messo questo segno per ricordarvi, qui possiamo mettere una terzina, potevo mettere anche una t, fatemi sapere se per voi è meglio mettere il mordente una t, o trascrivere una partitura proprio, insomma, dove inserisco la terzina, però facendo così metto, diciamo, basta studiare questo metodo e alla fine, insomma, vi ricordate, qua c'è da mettere una terzina, tanto la terzina sembra sia di essere ripetitiva, però andiamo avanti, ora collegate tutta la frase fino qui, e sarà questo, metto il metronomo lentamente, a sessanta, e questo, un, poi, chiudo, uno, due, tre, più, uno, chiaro, andiamo avanti, poi il terzo dito, due cerchiato, quarto dito come sopra, sì, bari, bari, uguale a sopra, solo che prima era in stessa posizione in apertura, ora in quinta posizione, in chiusura, quindi è questo, sì, bari, bari, quattro, due cerchiato, tre, e il tre in apertura, e ci fermiamo sul tre senza prolungarlo per ora, facciamo fino, fino al tre, vedete, di qua, poi affrontiamo, affrontiamo le altre difficoltà, quindi, dopo aver imparato tutto fino a qua, che dura tre più una pulsazione, abbiamo tre due cerchiato, stesso movimento delle dita di sopra, come ho detto poc'anzi, solo in chiusura in quinta posizione, quindi, qua ci andrà una terzina, ma successivamente, se ci sarà una lezione, se ci sarà interesse, chiaro? Bene, ripetete questo, poi collegate due righi, bentornati, ora siamo arrivati fino a questo tre in apertura, è chiaro, quindi questa frase, fino al tre in apertura, ora attenzione, non riprendiamo dal tre andando avanti, ora studieremo da questo tre per andare avanti, invece di rimanere su questo tre lungo, così, faremo questo, chiaro? È questo che c'è scritto, quindi, dura questo tre un movimento e mezzo, se metto il metrono, va sempre a sessanta, questo, uno, ma, ma, re, uno, due, quindi, uno, due, pensate a due pulsazioni sul tre, in levare subito inserito il due cerchiato, questo, uno, due, ma, re, ma, e in levare, uno, due, ma, re, chiaro? Uno, due, ma, re, un, due, ancora, uno, due, ma, re, un, due, ma, re, un, due, fatelo con una metroretta, questa, con il metronomo, non, diciamo, a parole, a chiacchiere, come suol dire, ma, effettivamente, ripetendole, assimilando, altrimenti non ha senso, l'alzino può durare dieci minuti, ma non pensate che alla fine dei dieci minuti avete imparato il brano, avete solo capito oralmente cosa ho detto, nelle migliori dei modi. Ecco qua, fino a qui, fatto questo, collegate tutta la parte, e questo, poi, qua potete tenere il terzo dito premuto, metto di evidenzio, man mano andiamo avanti con le varie difficoltà, ecco qua, se ci riuscite a tenere il terzo dito premuto, invertite solo il matice, e questo praticamente, premuto apro, però se è già difficile quello di prima va bene così, poi andiamo avanti, abbiamo il 3, l'ultimo 3 durato pulsazioni, quindi, un, due, mi riferisco a questo 3, è chiaro, capite dove siamo arrivati qui, andiamo avanti di qua, in apertura, subito poi in chiusura, attenzione, quindi abbiamo il 3 che durava 2, ora subito 3, due cerchiato, bari, chiudiamo, lo stesso tasto, e quindi bari, quindi possiamo anche tenere il premuto, o ribattiamo il tasto, quindi, chiudiamo con due cerchiato, poi un altro due cerchiato che dura una pulsazione e mezza, e un altro 2, questo, ripetiamo questo, bari, uno, due, subito due cerchiato in levare, quindi, tarà, poi ora nuovamente due cerchiato, una pulsazione e mezza, metto il metrono, lo ascoltate, bari, tarà, ora una pulsazione e mezza, in levare, battere, ancora questo, tarà, chiudo, tarà, ecco qua, ripetete questo per una mezz'oretta, un'ora importante suonarlo, insomma, e assimilarlo, ecco qua, vedete, qua è il tasto che potreste tenere premuto, se ci riuscite, altrimenti no, quindi, tarà, tarà, questa è una pulsazione a mezzo, tarà, tarà, in levare, tarà, tarà, qua si potrà mettere una terzina, ma poi vedremo insieme, fate questo per una mezz'oretta, un giorno, qualche ora, l'importante è che l'avete assimilato per bene, bene, benciornati, avete memorizzato questo, andiamo in stessa posizione in apertura, aggiungiamo questo, il quattro, la stessa ritmica di prima, quattro, due cerchiate che durano una pulsazione e mezza, il tre in levare, ascoltate, quindi quattro, una pulsazione, il due una pulsazione e mezza, quindi uno, due, subito in levare metto il tre, quindi ascolterò due battiti, in levare metterò u, due, l'altra nota in levare, sto ripetendo questa, fatela per una decina di minuti, bene, fatelo, ripetetelo, bentornati, avete memorizzato questo, per chiarezza di cose che dico, la ritmica mi riferiva a questo, stessa ritmica, per le stesse durate, vedete, le note cambiano, andiamo avanti, rigo successivo, abbiamo questo, in chiusura, saliamo di nuovo in posizione e chiudiamo, quindi quattro, due cerchiato, tre, apriamo col tre, due, tre, sento il battito lo lascio subito, perché si aggancerà nuovamente dall'inizio, quindi da quattro, due cerchiato, tre, uno, due, tre, stop, e subito le note dell'inizio, quindi uno, due, tre, un, potrò pensare, è la salva dell'inizio, quindi uno, due, tre, un e si ricollega da capo, ecco qua, vediamo, metto tutti i disegni così è più chiaro, ecco qua, vedete, fate queste tre note in chiusura, in apertura del tre, un, due, tre, un, patata, sono le stesse note dell'inizio, di questa parte iniziale, quindi fate questo pezzo e riprendete praticamente di qua, chiaro? Se vi è complicato fate questo tre, poi leggete dall'inizio, tecnicamente è scritto che si riprende di qua, però è importante che la suonate, la seconda volta non si fa più questo pezzo rosso, e si fa questo che ora andò a segnare blu, chiaro? Che insomma è questo terzo dito che dura in apertura, invece suonare questo terzo dito che dura tre più il battere, durerà sei, tre più tre, chiaro? E finirà così, quindi, uno, due, tre, quattro, cinque, sei, e di qua partirà, diciamo, inizia la seconda parte, metto questo qui, inizia la parte successiva, di qua, dal pezzo blu, quindi qua come si conclude la prima parte, chiaro? Questa possiamo definirla, parte A, e questa qui sopra, e la parte B questa, sì, facciamo così, in modo che è più semplice, anche per voi individuati, parte A, parte B, di qua in poi, va bene? Bene, mi sembra che sia più tutto chiaro, posso, possiamo anche inserire, diciamo, ripetete, innanzitutto tantissimo, solo la mano destra memorizzata, vi faccio vedere i bassi molto lentamente, ve li commento man mano, mi dà l'inizio, posizione di Re minore, chiudo con due, quattro bassi, basso, accordo, accordo, basso, poi, stessa ritmica di sopra, sul tre in apertura, metto basso accordo, due cerchiato senza basso, basso accordo, cambio bassi, in posizione Si bemolle, cambio bassi, quest'altra posizione di Do, cambio posizione di bassi, da capo, e si ripete tutto chiaro, bene, ci siamo, quando parlo di, ad esempio, di varie, delle posizioni dei bassi, parliamo dei bassi, bassi non reali, noi pensiamo all'organetto in Do, che se voi avete un organetto, questo è in Sol Do l'organetto, però lo pensiamo in Do, quindi anche se è un organetto in Re, in qualsiasi tonalità, in Re La, insomma, o qualsiasi altra tonalità, veramente un Do Fa, insomma, quindi è importante pensare nello stesso modo, qualsiasi tonalità avete, quindi la posizione dei bassi è sempre quella, non cambia nulla, bene, vi faccio capire dove, in senso di tutto, imparate prima la parte melodica, la mano destra, poi inserite gli abbellimenti, vi faccio sentire gli abbellimenti, magari da più a un mese, due mesi potreste inserire, e questo, un, qua fate una terzina, due cerchiato, quattro due cerchiato, anche un'altra potreste aggiungerne, e questo, quindi, è, quindi questo, Pa, Napoli, Napoli, ci vedete col due, chiaro, quindi, qua davanti, un'altra terzina, qua anche una sola, quindi, anche qui si può aggiungere, ma a mano le aggiungo ora, insomma, qui un'altra terzina, vedete, questo è qui, e voi dici, ma com'è sta terzina questa, quindi, molto veloce, due cerchiato, quattro due cerchiato, sempre la stessa, poi, un'altra terzina sul tre, quindi, tre due cerchiato, tre, e poi due cerchiato, andiamo avanti, chiudo, quindi anche qua, quattro, due cerchiato, un'altra terzina, e qua aggiunto io, quindi, non c'è scritto questo, lo mettiamo ora, c'è, non è che non c'è scritto, qui sotto non c'è scritto, ma la stessa cosa di qui, sopra, lo ho aggiunto qui sotto, per non rimanere sulla nota fissa, lunga così, si fanno queste note, si prende da capo, bene, ovviamente non mettete subito questi abbellimenti, altrimenti fate gli abbellimenti, mandate fuori tempo, la prima cosa è impararla a semplice e col metronomo a tempo, poi inserire i passi, da qui a un mesetto magari, mettere gli abbellimenti, bene, per oggi è tutto, se vi è stato utile questo video, mettete un mi piace, condividetelo con qualcuno che può interessargli questo video, se ci sarà interesse, farò la lezione successiva, per oggi è tutto, un saluto da Mario Carbone, alla prossima lezione, ciao a tutti